Siamo nella terra di nessuno. Andiamo, ora! Non posso alzarmi! Merda! Ehi! Ehi! Mi dispiace. Hai promesso di riportarmi a casa sano e salvo. Abbassa la voce. E le nostre medaglie? Il diventare eroi? Non sono un eroe. Mi hai dato la tua dannata parola! Maledizione! O sei una persona d'onore e allora mi aiuti o sei un fottuto bugiardo buono a nulla. Ma dovrai tradirmi guardandomi negli occhi. Allora, che cosa sei? Metti le carte in tavola, Blackburn. Tu non sei George Rackham, vero? Figlio del quarto fottuto conte di Windsor. Mi prendi per un idiota? Va bene. Andiamocene da qui. Dai! Non possiamo lasciarlo lì. Nuovo obiettivo. Tornare alle linee alleate. Ok, quindi l'abbiamo caricato in spalle il nostro amico bacettone. Ok. Dobbiamo stare super attenti. Anche perché presuppongo che avvicinandoci alle nostre linee, ok, non possiamo sparare. In più avvicinandoci alle nostre linee, presuppongo che i nostri camerati non ci vadano a riconoscere. Quindi siamo sotto due linee di fuoco. E in più non possiamo sparare. Ottimo. Evita i riflettori. Le mitragliatrici li puntano. Sparano tutto ciò che si muove. Eh, ok. Vediamo di... di evitarli, se è fattibile la cosa. Sì, ho capito, capito. Eh, ok. Accingiamoci qua. Un po'. Ok, fin qua tutto bene ragazzi. Le luci. Aspetta il buio. Andiamo qua, avanziamo qua. Sfrutta le opere. Sì, sì, capito, capito, capito. Vediamo se vogliamo arrivare qua. Qua sotto. Tieni duro, tieni duro qui in su. Tieni duro. Tieni duro. Non ce l'abbiamo fatta. Dai. Grandi così, ragazzi. Grandi così. Lui sono ha detto che sono un bugiardo, un bastardo buono a nulla. L'ho riportato a casa perché credo abbia ragione. E non sai quanto odio ammetterlo. L'ha portato quell'uomo nella terra di nessuno? Quello sì che è un eroe. No, non è niente del genere. È un baro, un ladro e un bugiardo. E risponderà di tutti i suoi crimini. Proprio così, Blackburn. E risponderà di tutti i suoi crimini. Sei messo male, amico. Testimonierò a tuo favore alla corte marziale. Forse potrebbe servire. Ne dubito, ma... Grazie. Whistle, mi serve un mitragliere? Ci penso io. Lo faccio io. Rack, fammi aiutare. Tu non meriti di volare. Mi arrivo! Whistle, se devo morire, allora lo farò lassù. Forza. Diamoci da fare. Sicuro che non vuoi stare a terra? Te lo scordi. Mi devi una cazzo di medaglia. Ok. E ce n'è un bordello come al solito. Ti puoi scommettere. Caccia in arrivo! Ti copro la coda! Maledizione! Qua è il nostro alleato, quindi niente. Bandito a ore 6. Tira! Tira deciso! Ehi, fuori dalle palle! Crucchi! Ok. E vanno veloci ragazzi, eh? Non è proprio, non è semplice proprio per niente. Andiamo a beccare, andiamo a beccare. Ehi, fuori dalle palle 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 rimane un caccia ok ok rimane uno solo ragazzi rendi così che ne so ragazzi sarà la grafica sarà il gioco ma sinceramente è una figata è una figata peccato peccato è atterrato direi no 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 ok ottimo così eh un attimo un attimo Winston un attimo sono un attimino occupato a mirare ok eh ho capito Winston un attimo un attimo ok un attimo un attimo Winston un attimo ok ok stiamo avanti l'altro ok manovra diversiva ragazzi e qua in mezzo le nuvole sinceramente non vediamo una mazza non perdere non perdere velocità attacca i bombardieri con un passaggio veloce così non ci colpiranno ci hanno colpito un attimo Winston un attimo un attimo di pazienza sto facendo tutto io one moment please andiamola a beccare andiamola a beccare oh ciappa anche puri dirigibili ragazzi che vanno a far fuori tra fuoco questo annato dirigibile arriverà sopra l'ondra mi resta in altura molti tieniti forte un attimo Winston un attimo un attimo fuoco nemico un attimo dai rusì dai rusì dai rusì ok ottimo direi ragazzi stiamo facendo un massacro attenzione attenzione è spettacolare ragazzi e sono duri da sbattere giù questi sono veramente duri è la scuola è è ok se devo morire allora lo farò lassù accidenti alla tua boccaccia Blackbird ma siamo proprio sopra il diricibile spettacolo ragazzi spettacolo no no non guardo no 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 ok non guardo in basso mamma mia quel cannone sta creando un sacco di problemi ai nostri dobbiamo eliminarlo e adesso lo andiamo a sistemare sto cannone non lo riesco a vedere bene retto davanti attento sparano da tutte le parti è lui merda meno male che non c'è ancora sono caduti ragazzi meno male trovo un modo per risalire io mi dirigerò verso il cannone antiaereo ok bene ci sono cazzo ok di sicuro ce ne saranno altri qua dentro da seccare ok arma carica perché quest'arma qui ha pochi colpi cosa? cosa sta succedendo lì sotto? abbassa la voce vuoi farmi sentire da tutti i tedeschi a bordo di questo dannato affare? ok apriamo la cassa vediamo un po' oh un bel mitra ok ottimo direi che bello ragazzi grafica è guarda dirò per tutto il gioco ma la grafica è veramente spettacolare sembra un film ok ok ciappa ciappa dai che siamo vicini siamo vicini fottuto ahhh dobbiamo utilizzarlo noi adesso avanti crocco vatti sotto il mio nome è fly blackbird sono un pilota mi piace l'azzardo e non sono uno che si tira indietro io non mi tiro indietro non mi tiro mai indietro forza bastardo faccavalmi se neanche per ti dai 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 caricati 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 forza forza grandi così atterrato ok spara gli spara carica 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 io volevo sparare il tipo che stava combattendo con il nostro compagno ma mi è stato dato fattibile eh mi sa proprio di si ragazzi e alla svelta direi e questa è la mia storia un egoista che ha rischiato la sua vita per salvarne un'altra e che così facendo invece ha salvato se stesso in guerra però i fatti verranno sempre stravolti sentirete versioni diverse un disartore che ha rubato un aereo e ucciso il compagno ha mentito ingannato e ammazzato lungo metà del fronte occidentale scampando alla corte marziale approfittando di un'incursione nemica queste però sono menzogne le mie parole quelle sono la verità altrimenti non le avrei dette oppure no storia di guerra completata ok quindi abbiamo dunque abbiamo fatto il punto amici nelle alte sfere l'abbiamo completato che adesso non so come ho detto precedentemente se l'episodio lo andrò a dividere in due parti oppure magari i ragazzi vi ho fatto qualche taglio qua e là per quanto riguarda i combattimenti aerei però devo dire che sinceramente anche questa missione qua è stata veramente veramente bella amici io direi che il nostro episodio termina qui spero che la nostra avventura vi stia piacendo in tal caso se non siete iscritti al canale iscrivetevi se è piaciuto il filmato lasciate un bel like vi ringrazio per il mio seguito ci vediamo con il prossimo gameplay un saluto a tutti da GraceGamer78 grazie a tutti